Ciao a tutti, bentornati sull'antimeta, siamo in Lorenz. E che robe? E oggi vi portiamo le modifiche al mazzo Dolore Prismatico, con la comandante Giara del Cartalion. Il nostro Plane Zulker pentacolori, un po' scarso, che vi ricordiamo col più uno fa una pedina cavotta 3 che hai tutti i colori, col meno 3 se li fiumi due creature, per ognuno di essi li metti altrettanti segni più uno pari del numero di colori che ha, e col meno serie prendi una carta multicolore e bersaglio al cimitero, secco la carta di tutti i colori, peschi una carta e fai due tesori. E può essere il comandante. Vediamo le carte che abbiamo scelto di togliere e quelle che abbiamo deciso di mettere. Ne abbiamo tolte più del solito, perché secondo noi aveva bisogno di una modifica un po' più pesante rispetto al resto. Facciamo due premesse, come al solito di passare in descrizione, leggere tutti i nostri link ai vari social e tutto, lasciare un bel mi piace e un commento per supportarci. Seconda cosa, in questo video non modificheremo le terre base. Esatto. Vi rimandiamo ai nostri video, pillole di commander, sempre in descrizione, per capire come modificare i mazzi con 5 colori. Direi che le poche volte che l'ho provato non sono mai rimaste in curato terre, le terre che ci sono girano molto bene, si possono potenziare ovviamente. La prima cosa da fare, se uno vuole potenziarle, è sicuramente togliere le fecce che entrano tappate e metterci le fecce normali, che quello velocizza molto di più il mazzo. Dopo, sì, si può modificare qualche altra cosa le terre, ma non modificheremo terre in questo video, perché girano già abbastanza bene così. Diciamo che le terre sono buone per poter giocare, ma non sono veloci, perché tante entrano tappate. Però non si rimane inchiodati a terre. Esatto, sono sempre riuscito ad avere tutti i miei 5 colori a turno 5, sempre riuscito ogni turno a giocare a terra, non ho avuto problemi di questo genere, perché il mazzo ha molti rampini. Quindi, mazzo, per guardare quel punto di vista, sono stati bravi. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo deciso di togliere Corriere Transgilda, creatura a costo 4-3-3, che è di tutti i colori. Quindi, per metterci dentro la Prosegna di Draco, costa 12, un 4-4, creatura artefatto Drago, che ha dominio. Questa magia costa 2 in meno per essere lanciata per un tipo di terra base tra i terra dei controlli. Quindi direi che potenzialmente la possiamo pagare 2 mana. 2 mana per un 4-4 a volante. Esatto, che dice, ogni creatura dei controlli ha cautela 6 bianca, antimolochio 6 blu, rigana vitale 6 nera, attacchio improvviso 6 rosso e travolgere 6 verde. Quindi, per ogni colore, le nostre creature prendono un'abilità. E questo direi che in questo mazzo è veramente forte. Direi che questo Drago qui l'hanno creato apposta per questo mazzo, si può dire. Esatto, un Drago che c'è già da prima, perché è di Modern Horizon 2, però ha fatto pennello per questo mazzo. Poi abbiamo tolto Elementale della fusione. È una creatura pentacolore, quindi mi è un po' dispiaciuto toglierla, però è un 8-8 che non fa niente. Lui deve solo picchiare. Questo 5-8-8 insomma. Va bene che con l'aggiunta del Drago di poco fa avrebbe preso 5 abilità, però ho detto no. Preferisco una carta che quando entra aiuta già di suo senza dover aspettare un'altra carta. Quindi abbiamo deciso di mettere dentro la Trax a voce dei Pretori, che ha un colore in meno, però ha già di sé rivolare, cautelato con l'Italia e l'algame vitale. In più, aiuta il Comandante proliferando. Il Comandante poi, avendo la seconda abilità che emette segnalini sulle altre creature, proliferare aiuta anche le altre creature che ci sono. Quindi direi che Atrax è un'ottima aggiunta per questo mazzo. Esattamente. Poi abbiamo scelto di tirar via Nettori, Alfa della Morte. Una creatura costo 5, di cui bianco, nero, verde, che è un 5-5, con mutazione a 7. Toccoletale e legame vitale. E quando questa creatura muta, metti sul campo di battaglia un qualsiasi numero di carta e creatura a bersaglio, con forze totali 10 o inferiori dal cimitero. È un buon effetto. Mi dispiaceva anche per il legame vitale, visto che questo mazzo non ha molto modo di fare vite. Però, diciamo che la mutazione in questo mazzo non è sfruttata. Quindi ho deciso di tirarlo via. E abbiamo deciso di mettere dentro Yonet Hiller Nephilim. Costa 4 colori, tutti tranne il verde. È un 2-2. Quando attacca, fai tornare una creatura dal tuo cimitero, tappata e attaccante sul campo di battaglia. E calcolando che con il nostro comandante facciamo subito un meno 3 e li mettiamo su 4 segni di più 1 più 1, diventa un 6-6. Non è troppo pericoloso, diciamo, attaccare con questo creaturino qui. 6-6 è facile che attacchino. Esatto, perché un 2-2, direi, attacca lui, mette in campo qualcosa, poi lui muore. Invece, con Jared, magari riusciamo a farlo sopravvivere qualcosina di più. Poi abbiamo tolto Eroina del primo distretto, che ogni qualvolta la lancia e non legge molti di colore creiamo una pedino mano, un 1-1 bianca. Direi che l'ho tolta, anche se costa poco da giocare, perché volevo qualcos'altro. Non ce la vedevo così essenziale. Poi la creatura che crea è un'altra creatura monocolore. Ho detto, qui ci vuole qualcosa di un po' diverso. Quindi ho detto, non mi sembra essenziale. Abbiamo messo dentro, invece, la drieta del boschetto di Lisia. Lisia è sempre una creatura monocolore, però aiuta tutto il comparto terre, perché puoi giocare una terra nazionale in ognuno dei tuoi turni. E in più le terre che controllano tutti i tipi di terra basi, in aggiunta ai loro altri tipi. Questo va ad aiutare gli effetti condominio, che questo, secondo me, in questo mazzo è utilissimo. Esatto. Carta che ci sta a piannello. Poi abbiamo tolto, ovviamente, anche l'altra creatura con mutazione, il 1-1 alfa degli desideri. Volante travolgere, che quando muta esilia carte dalla cima del tuo rumore, finché non esili una carta permanente non terra, la metti sul campo di battaglia e raggiungi la tua mano. Il problema è che non dice niente sulle altre carte che esilii. Esili a carte, quindi quelle che esilii, verrà stanno esiliate. Esili delle terre, perché dice una carta non terra. Hai ragione. Se hai un permanente lo metti in campo, se hai una magia la tieni in mano. Volante travolgere 6-6, sì, è forte, ha costo 5. Però, insomma... Sì, come ho detto prima, la mutazione non è sfruttata. Cioè, per farla partire dovresti metterla sopra un'altra creatura, che ci può stare come no. Esatto. Però, insomma... Quindi abbiamo deciso di mettere Jodl unificatore, uscito in questa espansione, che costa giusto giusto 5, uno per colore. Le creature leggendari che controlliamo prendono più x più x, dove x è il numero di creature leggendari. Quindi, in teoria, ne avremo abbastanza di creature leggendarie. E ogni volta che lanciamo una magia leggendaria dalla nostra mano, esiliamo carte da cima del nostro gemore, finché non esiliamo una carta non terra leggendaria, con valore di mana inferiore. Possiamo lanciare quella carta senza pagare il costo di mana, e mettiamo un'altra in fondo del gemore in ordine casuale. Quindi, ci aiuta a lanciare qualcosa in più. Ci può stare. E potenzia tutte le nostre creature leggendarie. Una bella carta forte, soprattutto in questo messo. Esatto. Poi abbiamo tirato via Xiris, la tempesta serpeggiante. Un 3-5, costo 5, verde, blu e rossa. Volante. Ogni qualvolta un avversario pesca una carta, tranne la prima che pesca in una delle sue sottofasi di acquisizione, creiamo una pedina serpente e un 1-1 verde. Ogni qualvolta Xiris, la tempesta serpeggiante, implicitando il combattimento a un altro giocatore, no, a un giocatore, tu e quel giocatore pescate altre tante carte. Allora, va bene, mi piaceva il fatto che creava pedine, quando un avversario pescava, non nella prima fase. Però mi dava fastidio che io e quel giocatore pescavassimo altre tante carte. Non voglio far pescare gli avversari, quindi l'ho tirata via solo per quello. Perché altrimenti potevo anche tenerla, questa. E ho deciso di mettere dentro il clone della scintilla, di... come si chiama? Guerra della scintilla. Guerra della scintilla. Costa 4, una creatura illusione, che può entrare nel campo di battaglia come copia di una creatura o di un planeswalker, tranne che non è leggendaria se quella creatura o planeswalker sono leggendari, ed entra con un 1-1-1 addizionale se è una creatura, o un segno di infedeltà addizionale se è un planeswalker. Quindi questa può farci avere un doppio effetto di qualcosa che ci serve sul campo di battaglia, come per esempio l'altro Jodah, che ci sarebbe utilissimo, che potenzi due volte le creature, o qualche altra carta che da sola può fare male, per esempio Atraxa. Beh, può anche diventare copia di Jared, volendo. Sì, esatto, può anche diventare copia del comandante, quindi in un turno magari riusciamo a fare sia una pedina, che col meno 3 potenziarci le altre. Puoi fare sia i cavò che potenziali, mettere giù dei 3-3 che diventano subito 8-8 travolgenti. Esatto, quindi direi che il colon della scintilla ci sta, è ottimo. Poi abbiamo tirato via Selva, la esploratrice ritornata, costa 3 di cui verde e bianco, ed è un 2-4, con negoziato, ovvero la tappiamo, ogni giocatore rivela la prima carta del proprio Grimorio, per ogni carta non terra rivelata in questo modo, noi aggiungiamo un verde, che otteniamo una vita, poi ogni giocatore pesca una carta. Stesso motivo di Xairis l'ho tolta perché non voglio far pescare gli altri, anche perché questo mazzo è abbastanza lento, quindi se avvantaggiamo anche gli altri, mi sa che soccombiamo molto alla svelta. Quindi abbiamo messo dentro 2 lane Tellers of Tales, che costa 5, di cui verde, bianco e blu, è un 2-4, con cautela. Ogni volta lanciamo una magia, una creatura, sì, ogni volta lanciamo una magia creatura, peschiamo una carta. Poi possiamo mettere una terra dalla nostra mano sul campo di battaglia, quindi ci fa pescare, e ci fa anche giocare forse terra addizionale. In più, tappando 3, tappando lui, facciamo attornare una creatura che controlliamo in mano al proprio proprietario, quindi se magari ci stanno bersagliando una creatura con una magia pericolosa, possiamo ribalzarsi in mano una creatura, e ci può stare, abbastanza equilibrato. Permette di salvarci le nostre creature, fa pescare molto forte, anche come comandante, quindi in questo mazzo che ha tre colori, torna molto utile. Poi abbiamo tolto Zaxara l'esemplare, costa 4, di cui nero, verde e blu, ed è un 2-3, con tocco letale. Dice, tappa, aggiungi due mani di un qualsiasi colore, e dice, ogni volta lanci una magia con X nel suo costo di mano, crea una pedina creatura idra 00 verde, poi metti X in pieno pieno su di essa. L'ho tolta semplicemente perché c'era una magia a costo X nel mazzo, quindi non la vedevo sfruttata. Abbiamo deciso di metterci la Marchesa, la rosa nera, costa 3, di cui nero, blu, costa 4, di cui nero, blu e rosso, è un 3-3, con spodestare. Detron. Ovvero, quando questa creatura attacca il giocatore con più punti vita, o con punti vita più alti a pari merito, con un altro giocatore, gli mette un più uno più uno su di essa. Le altre creature di controllo li hanno spodestare, quindi tutte le creature hanno questo effetto, tutte le creature che controlliamo a questo effetto, e ogni volta una creatura che controlliamo con un segnalo più uno più uno muore, rimetti quella carta sul campo di battaglia sotto il tuo controllo all'inizio della prossima sottofase finale, quindi le nostre creature ritornano finché lei c'è. Questa è utile oltre perché da lei spodestare alle nostre creature, ma perché con Jared mettiamo già tanti segnalini più uno più uno, quindi Jared combinato alla Marchesa permette di rigiocare le nostre creature che moriranno. Esatto. Abbiamo tolto la progenie primordiale, ok che era in tutti i cinque colori, ed è un 10-10 con cautela a travolgere il gambe vitale, però ha il problema che se non è stata lanciata, se non è stata lanciata, pagando mana, viene esiliata. In più dice, quando lascia il campo di battaglia, esiliamo le prime 10 carte del nostro rimorio, possiamo lanciare un qualsiasi numero di magie con valore di mana totale a paro inferiore a 10, scelte tra esse, senza pagare i loro costi di mana. Il problema è che le altre carte vengono esiliate. Avendo noi nel mazzo tante carte con costi di mana 4, 5, a volte 6, direi che quando lui lascia il campo ne lanciamo due se va bene, e tutto il resto viene esiliato, quindi potrebbe esiliarci tanta roba molto utile. Ho preferito evitare questo rischio e ho messo dentro Saskia l'implacabile, costa 4, di cui nero, rosso, verde e bianco, è un 3-4 con cautela e rapidità, e quando entra nel campo di battaglia, scegliamo un giocatore. Ogni volta una creatura che controlliamo infliggia tanti danni al giocatore scelto, quindi fai una comba su uno e fai tanti danni all'altro, diciamo. velocizza, diciamo, una vittoria questa. Esatto. Molto potente. Diciamo che abbiamo messo parecchi comandanti della notia trassa. Poi abbiamo tolto l'oracolo a ciambellato, costa un blu e un verde, e un 1-1, che quando entra nel campo di battaglia riveliamo la prima carta del nostro rimorio, se è una carta terra la mettiamo sul campo di battaglia, altrimenti aggiungiamo quella carta alla nostra mano. Ne. Poteva essere utile, però ho deciso di toglierlo, perché comunque, visto che comunque il mazzo gira molto bene sul cercarsi le terre da solo. E abbiamo deciso di mettere dentro il codice di Joda, costa 5, quindi costa un po' di più, però ha dominio, quindi normalmente tappando 5 e tappando lì pesca una carta. Questa abilità in più costa 1 in meno per essere attirati per ogni tipo di terra base o tra le terre che controlliamo. Non è difficile in questo mazzo avere tutti i tipi di terra base, quindi arriviamo a un certo punto che lo tappi e peschi. Visto che questo mazzo ha molto bisogno di pescare e l'ho vista una buona soluzione. Sì, costa tanto giocarlo a 5, però poi il beneficio è alto, perché tappando un artefatto, cioè un artefatto che lo tappi e ti fa pescare, è forte. È veramente forte. Vi ho tolto le fiamme raggianti, costa 3, di cui un rosso, a convergenza, infliggono x danni a ogni creatura, dove x è il numero di colori di mano spesi per lanciare questa magia. Il massimo che possiamo arrivare a fare è 3, quindi mi sembrava abbastanza poco da utilizzare in commander. Quindi l'ho tirata via e ho messo dentro Insurrezione di Garruk. Il costo di mano è sempre quello, però al verde. È un incantesimo che quando entra in campo di battaglia, se controlliamo una creatura con forza pari o superiore a 4, peschiamo una carta. Le creature che controlliamo non travolgere e ogni volta una creatura con forza pari o superiore a 4 entra in campo di battaglia sotto il nostro controllo, peschiamo una carta. Quindi questo ci fa pescare quando entra. Ci fa pescare quando mettiamo in campo una creatura con 4 o più di forza e da travolgere tutte le nostre creature che con Jared potrebbero diventare anche molto molto grosse. Direi che un travolgere è molto utile averlo. Esatto. In più fa pescare. Travolgere a tutti è sempre forte. Abbiamo tolto crescita abbondante, costa 1, incanta terra. Quando entra peschiamo una carta e la terra incantata aggiunge un mana di un qualsiasi colore. quindi non è così forte. Fa pescare una sola volta e diciamo che la terra incantata aggiunge un mana a scelta. Non è che aumenta il mana che produce quella terra. Non ne da due. La fa diventare una terra di comando. Esatto. Quindi non l'ho vista così utile e ho detto via. E abbiamo messo dentro l'autorità Temur costa un verde, un blu e un rosso. È un incantesimo e dice le creature che controlliamo hanno rapidità. Unica volta una creature con forza pari o superiore a 4 entra nel campo di battaglia sotto controllo puoi pescare una carta. Quindi anche questa ci aiuta a pescare. Molto bella. Abbiamo tirato via anche spirale di crescita sempre in verde e blu. Peschi una carta puoi mettere su un po' di battaglia di una carta a terra dalla tua mano. L'ho tirata via come detto prima. Il mazzo gira anche bene senza di questa. Vi ho messo dentro una carta molto pesante che però ci aiuta moltissimo se riusciamo a lanciarla. Cioè più che altro se gli altri non ce la counterano perché questa la counterano sempre. Costa 7 e un incantesimo che ogni volta tappi una terra per twingere mana aggiungi in mana la mia serva di mana di qualsiasi tipo prodotto da quella terra. L'unica volta lanciamo una magia creatura peschiamo una carta quindi ci fa pescare quando lanciamo creature e ci raddoppia il mana. Direi che è forte. C'era anche l'altro incantesimo a costo 5 solo che quello non ci faceva pescare ma dava un più uno più a tutte le creature. Il più uno più non lo vedevo così essenziale ma ho preferito puntare sul pescare visto che questo mazzo soffre veramente sul pescare. Abbiamo tolto la reliquia della coalizione che costa 3 tappa aggiungi in mana di qualsiasi colore oppure tappa mettere un segno in carica sulla reliquia della coalizione all'inizio della tua fase principale per combattimento rimuove tutti i segni in carica dalla reliquia della coalizione aggiungi un mana di qualsiasi colore per ogni segnalino carica rimosso in questo modo. Questa poteva essere forte se era magari fatta in un modo diverso perché da quello che ho capito ogni ogni tua fase per combattimento rimuove tutti i segnalini che ne abbia o che non ne abbia lo si fa questo effetto. quindi main phase 1 tappa e aggiungi un segnalino se volevi accumularli magari per usarli qualche turno successivo non puoi farlo perché lui te li tira via comunque. L'unica roba che puoi fare è tenerlo stappato nel turno dell'avversario lo tappa e aggiungi un segnalino al tuo mantenimento cioè al tuo stapp lo ritappi e aggiungi un altro segnalino quindi arrivi a 2 quindi mi è sembrata un po' scarsa e detto ciò ho messo dentro la lanterna cromatica costa sempre 3 e le terre che controlliamo hanno tappa aggiungi un mana di qualsiasi colore e anche lui aggiunge un mana di qualsiasi colore quindi ci dà tutto il colore che ci serve in un mazzo pentacolor è essenziale e ci aggiunge anche un mana di qualsiasi colore come la reliquia queste sono le modifiche al masso dolore prismatico niente fateci sapere se vi piacciono se avesse se aveste tolto qualcos'altro se avreste evitato di mettere qualcosa che noi abbiamo messo e qui siamo stati un po' più bravi abbiamo cercato di tenere bene o male lo stesso costo di mana non l'abbiamo appesantito troppo che ce l'avete detto in molti che era molto pesante l'altro mazzo ricordiamo che noi giochiamo multiplayer quindi anche se ci sono carte pesanti sì non è detto che sì bisogna che sia veloce il mazzo però però non da contrastare delle comu perché di solito noi contro mazzi che giocano e chiudono in tre turni noi ci giochiamo proprio esatto noi puntiamo a giocare su partite lunghe dove ci si diverte perché vogliamo vedere il nostro mazzo che lavora e che fa quello che abbiamo in mente di chi faccia quindi niente dall'antimete è tutto al prossimo video che se tutto va bene saranno i mazzi di Warhammer se non ci siamo sbagliati se va bene quindi al prossimo video